L'introduzione del ventiquattresimo canto del secondo libro dell'inauguramento di Orlando. In furia la battaglia fra i pagani di Re Marsilio e l'esercito di Carlo, grandi stragi da ambo le parti, prevalere ora degli uni, ora degli altri, in un turbinio di contrasti, di membra sparse, di colpi tremendi, di piedi che volano, di cosce segate a metà, di rincorse affannate. Rodamonte e Ferraguto, con loro intervento, hanno infatti riequilibrato le sorti già pericolanti dei pagani. Essi, siccome fuori del bosco d'oleoni che abbiano scorto lo armento e la pastura, si precipitano dove più folta è la lotta, travolgendo ogni resistenza. E benché nostra gente sia gagliarda, contro la due Saracin non può durare. Tanto più che ora, apparentemente vanificatisi Orlando, Ranaldo, Olivieri e Eugieri, l'intero esercito cristiano è sul punto di sbandarsi completamente. Attenzione. Re Carlo, colpo di scena, cubo di teatro, tra l'ora manda affannosamente messi in cerca di Orlando e Ranaldo. Ed è proprio uno dei messi del re Balduino che, rintracciati i due, conta piangendo come Carlo Mano è morto al campo e sta col tal martire che in poco d'ora converrà a morire. Orlando e Ranaldo si precipitano desiderosi di precedersi un l'altro e acquistarsi presso il sovrano quei meriti che gli segnalino nei confronti di Angelica, ma la fortuna assiste questa volta a Ranaldo, che primo si imbatte nel sovrano assalito da Marsilio e lo libera. Subito dopo però sopraggiunge Ferraguto che lo impegna in un aspro e incerto duello. Quindi Ranaldo versus Ferraguto. Nel frattempo Orlando, vistosi preceduto dal cugino e perduta la speranza del suo amore, sfoga sulla gente pagana maledetta tutta la sua pena. Non tanto tuttavia, poiché Rodamonte sopraggiunto impegna a sua volta col paladino una estrema guerra. Quindi Orlando fa carneficina di pagani, però poi gli arriva Rodamonte che lo impegna in tosta, in tosto tensione.